Addie Autoservice, dove esperienza e professionalità accendono i motori. Leanservices, servizi grafici, abbigliamento sportivo, antinfortunistica e per qualsiasi professione. Istituto di vigilanza, securità spuglia. Ristorante e pizzeria, le tre torri da Giovanni. Gruppo Simpli, l'ipermercato più vicino a te. Todo Modo e Hotel a Terra, caseificio Bianca Ostuni. 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. Io sono in campo sostenuto da un grande movimento civico che presenterà diverse, molte liste a sostegno di questo progetto. E sono non in attesa perché è giusto che ci debba essere un sacro rispetto di tutti quanti. e quindi aspetterò i miei avversari a queste elezioni. La campagna elettorale mi auguro che sia civile e democratica. La presenza di un commissario, tra l'altro all'altezza del compito, che ho avuto occasione già di conoscere, di salutare, alla quale ho fatto gli auguri di buon lavoro. È garanzia di terzietà, di serenità per lo svolgimento di questa campagna elettorale senza inutili e stupidi tentativi di modificare la realtà e i fatti. Noi oggi siamo alle prese con alcuni dati molto significativi. Il fallimento di un progetto politico e di una guida politica che si era candidata per il cambiamento, che è stato un grande flop, si cercherà di riannodare le fila per ridare alla città una stabilità necessaria e indispensabile, innervata dalla partecipazione significativa in ruoli di responsabilità di giovani e donne, che dovranno dare il senso non dell'avvicendamento anagrafico che è stupido e privo di contenuti, ma proprio il senso dell'adeguamento al cambiamento che c'è nella società civile e nelle istituzioni, nelle norme che si avvicendano con grande velocità. Cercheremo di dare a Ostuni un filo conduttore che possa avere un obiettivo comune e condiviso, condiviso innanzitutto con la cittadinanza. Il nostro slogan sarà Fai la cosa giusta per la città di Ostuni e noi con tutti quanti i cittadini, noi con voi e per voi, lavoreremo con l'impegno e la professionalità che ci ha sempre contraddistinto. Colgo l'occasione per fare i migliori auguri ai miei contraddittori, a quelli che parteciperanno, che stanno partecipando alle primarie del centro-destra, tra l'altro mi pare siano due colleghi ai quali quindi va il mio affettuoso saluto e il rispetto sia come avversari politici che come colleghi, perché loro sanno che per me c'è una sacralità di questo rapporto. Gli altri, come dicevamo poc'anzi, li attendo, ma con loro, senza di loro, io continuerò a lavorare per questa città, per creare occasioni di lavoro, per continuare il mio operato nei servizi alla città e in opere pubbliche senza assolutamente aumentare le tasse, anzi cercherò di riportarle ai livelli che caratterizzavano le nostre responsabilità e quindi tutto questo sarà il progetto politico che porteremo avanti con l'umiltà unita alla serietà che ci contraddistingue e quindi con la capacità di fare autocritica, di fare tesoro degli errori che si sono commessi e soprattutto bandendo dalla città ogni forma di ripicca, vendetta, fraintendimento, equivoco, rivendicazione che invece devono essere bandite, rimosse dal terreno del confronto democratico perché Ostuni, come si suol dire, ha veramente bisogno di meglio.